buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andremo a vedere insieme uno swap piuttosto economico siamo abituati a utilizzare uniswap e sushi swap che girano sulla block cene di etirium quindi con i costi relativi al gas fee di etirium ma esiste una side chain molto più economica sto parlando di matic network e la sua block chain polygon andiamo a vedere il suo funzionamento per la prima parte dei video dedicati a questa side chain dopo la sigla si are a farvi vedere come configurare metamask per quick swap che gira su matic network parliamo un attimo di polygon polygon che cos'è è una block cene parallela ad etirium possiamo anche tranquillamente chiamarla side chain dove sostanzialmente polygon è la block cene di matic dove è possibile spostare i tocchi nersi 20 quindi token di etirium all'interno di questa block chain con dei costi veramente bassissimi visto i costi così bassi rispetto etirium molti su app come uniswap e sushi swap si stanno adeguando per essere integrati per creare un ponte un bridge anche con questa block cene non solo con quella di etirium la cosa principale per riuscire ad operare su questa cena ovviamente è andare a configurare metamask proprio allo stesso modo con il quale l'abbiamo configurato combine a smart chain ovviamente dobbiamo andare a collegare il nostro metamask alla polygon chain matic network e come si fa vi lascerò innanzitutto link in descrizione dove potete andare a vedere i passi parametri da inserire comunque lo vediamo in diretta questa è la configurazione di metamask noi dovremo andare a inserire questi dati in questo modo apriamo il nostro metamask inseriamo la password hanno inserito una funzione che prima non c'era ovvero potrebbe prenderlo in automatico senza andarlo inserire manualmente sto vedendo indirettamente sto facendo questo video che hanno aggiornato la possibilità di salvare i dati in automatico vediamo se funziona clicco direttamente sua prova switch network e vediamo se me l'ha salvato sembrerebbe di sì io vado in alto per selezionare la rete seleziono ad esempio tiro e passo su etirium seleziono by na smartcene passo su by na smartcene e vediamo un attimo se mi ha salvato anche matic perfetto ottima funzione senza stare a impostare manualmente questi dati matic metamask lo prende in automatico perché mi ha preso in automatico i dati di matic perché io avevo aperto la pagina di quick swap quindi vi consiglio aprite quick swap punto exchange e fate connetti wallet in automatico se la per la meta mas che si collegherà senza dover stare a impostare i dati nel caso io vi lascerò in descrizione anche questo documento dove se per caso non dovesse prendere in automatico nella mainette di matic potete andarlo a inserire manualmente comunque nel caso non lo prendesse in automatico dovete andare su metamask cliccare su in alto sulla rete andare in basso e mettere rpc personalizzato e quindi vedete che corrispondono dovete solo copiare questi dati dalla parte sinistra e riportarli esattamente qui dopodiché salvate e lo troverete la mainette di matic tra l'elenco tornando su quick swap vedete che in alto a destra se collegato al mio metamask una differenza importante e anche se non fondamentale è che matti che network è completamente decentralizzato rispetto a byna smartcene che come ben sapete non è completamente decentralizzata ovviamente per operare su matic network dobbiamo avere dei matic per pagare le fi sui tirium su rete tirion dobbiamo avere tirium su byna smartcene dobbiamo avere bnb e su matic network dobbiamo avere per l'appunto il token matic per pagare le fide le transazioni spostiamoci un attimo su coin market cap e polygon matic a rank 17 è un token con 310 mila persone che hanno questo progetto nella watch list su coin market cap ad oggi ha avuto una flessione del 28,51 per cento dovuto anche al periodo in questione come ben sappiamo è un momento dove bitcoin e tutte le altre cripto valute stanno un po avendo dei bruschi e ritracciamenti ha un valore di un euro e 16 per una totale circolazione di 10 miliardi di token attualmente lo si può acquistare su byna su coinbase exchange su obi global questi sono gli exchange con un alto volume di scambio poi ce ne sono altri minori ma approfittiamo di questi grossi exchange di binance con base exchange o obi global per poterlo acquistare tranquillamente senza alcun rischio spostiamoci i big swap in alto a destra vedete la scritta di controllare sempre che l'url sia quello corretto qui questo app punto exchange per evitare di entrare in qualche scam e come vedete l'impaginazione l'impostazione identica quella di sushi swap all'interno di quick swap come vediamo possiamo scambiare il nostro matic con diversi token più o meno gli stessi che troviamo anche su uniswap e sushi swap quindi il funzionamento identico si pagano meno fi rispetto a uniswap e sushi swap è conveniente poterlo utilizzare supponiamo adesso da avere fondi sufficienti per fare uno swap tra matic e noi inseriremo l'importo tipo 5 matic vi faccio l'esempio in cambio avremo 6,129 usdt ovviamente da matic insufficiente perché o 0 supponiamo di avere i fondi sufficienti clicchiamo lo swap è un automatico questi sei tether ci andranno inviati a meta mask molto probabilmente su meta mas che non non li vedremo questi tether dovremmo andare ad aggiungere sulla voce token personalizzato come abbiamo fatto in altri video soprattutto su pancake swap e altri swap andiamo su aggiungi token e dobbiamo andare a copiare l'address e il decimale di usdt per attenzione non siamo su rete e tirum quindi non andiamo a copiare un address di rete tiro ma dobbiamo andare su un sito particolare che si chiama matic network token ma per dove ci fa vedere l'address di e tirum è l'address di matic essendo su matic network dovremmo andare a copiare questi indirizzi vi faccio l'esempio andiamo a cercare usdt andiamo a cercarlo eccolo qui usdt tether se noi andiamo a copiare questo che troviamo nella prima linea a sinistra non è altro che l'indirizzo di e tirum quindi non ci verrà riconosciuto noi essendo su matic dovremmo andare a copiare sulla colonna di matic questo address ci clicchiamo sopra vedremo che matic ades è questo facciamo un bel copia andiamo su meta mask aggiungi token coppiamo l'indirizzo in automatico ci viene scritto usdt perché lo riconosce il decimale 6 che è lo stesso che vediamo qua clicchiamo su avanti e ci verrà salvato il nostro token in quel caso vedremo i teta trasferiti da matic swap direttamente su meta mask nella matic network bene siamo arrivati alla fine del nostro video alla fine della prima parte della serie di video dedicati a questo progetto spero sia stato di vostro gradimento vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui miei video da attivare la campanellina di a lasciarmi un like se avete piacere ed ogni vero nostro community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi vi auguro buon weekend e noi ci vediamo domani con un altro video